Entriamo negli ultimi due mesi di stagione regolare per quanto riguarda la MLB, abbiamo aggiornito anche la trade Aden e torniamo dunque a parlare di baseball giocato con il penultimo recap della stagione. Agosto e settembre sono notoriamente i mesi della stagione dove effettivamente i valori in campo devono evidentemente confermarsi e di conseguenza ogni vittoria per le franchigie che contendono, la vittoria per le divisioni e la qualificazione playoff vale, se non doppio, anche qualcosa di più. Partiamo come al solito dalla nostra panoramica da est a ovest, prima con l'American League e poi con la National League, andando anche a parlare in parte in qualche episodio di che impatto possono aver avuto le acquisizioni in trade deadline, ne abbiamo già parlato giovedì scorso, questo di fatto è la seconda parte di una settimana di video a tema baseball, è un po' il seguito spirituale del video che abbiamo appunto trattato giovedì scorso per quanto riguarda il mercato. Però parlando appunto di baseball giocato iniziamo con la panoramica dell'American League East dove appunto in prima posizione abbiamo addirittura due squadre che sono ovviamente quelle pronosticate dall'inizio della stagione. Da una parte i Baltimore Orioles, dall'altra i New York Yankees, 66 vittorie e 46 sconfitte per entrambe, con una percentuale di vittorie che è pari al 58%, quasi 59%, peraltro record complementare per entrambe le più grandi formazioni dell'American League East, con appunto una streak di 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 per gli Orioles e 6 vittorie e 4 sconfitte per quanto riguarda gli Yankees. In terza posizione abbiamo i Boston Red Sox, 58 vittorie e 51 sconfitte, 6 partite e mezza di distacco dalla prima posizione ma un solido vantaggio per quanto riguarda la classifica della wildcard, un aspetto che peraltro andremo ad analizzare a fine video. In quarta posizione abbiamo i Toronto Blue Jays, o meglio i Tampa Bay Rays, con 56 vittorie e 54 sconfitte, poco sopra il 50%, per una formazione va detto che in trade deadline ha più venduto che ceduto e comunque sta facendo una prestazione abbastanza solida, in ultima posizione invece i citati Toronto Blue Jays, che ci si aspettava un pochino potessero essere lì, non hanno a sorpresa venduto Vladimir Guerrero Junior, che era uno degli indiziati possibili per partire, invece hanno venduto altri giocatori, vedi per esempio Justin Turner, vedi per esempio il lanciatore giapponese Yusei Kikuchi e sono comunque ultimi a 51 vittorie e 60 sconfitte, 14 partite e mezza di distacco dalla prima posizione. Analizzando questa divisione è ovvio pensare che i pronosti sono quelli evidentemente confermati già da inizio anno, perché appunto sapevamo che Baltimore e New York potevano essere una spanna sopra le altre formazioni, poteva competere forse un pochino di più Toronto, ma che comunque ha sottoperformato e di conseguenza con delle squadre in meno, un pochino inferiori, è ovvio che la divisione sarà a pannaggio delle due formazioni appunto Baltimore e New York Yankees, che peraltro sono anche protagonisti degli approfondimenti di cui parleremo ovviamente per ogni Lega. Sappiamo che in questi recap viene trattato una serie di episodi che possono essere significativi per lo svolgimento dell'ultimo mese di sondaggio regolare appena trascorso. Uno riguarda un giocatore che sta esplodendo molto a sorpresa, l'altro per quanto riguarda sempre i New York Yankees è un acquisto di cui abbiamo già parlato nei video giovedì scorso, ma partiamo da una delle più grandi sorprese evidentemente di questa stagione, parliamo di Ben Rice, uno dei giocatori arrivati di fatto in corsa per sopperire ai grandi infortuni, l'ultimo in ordine tecnologico per i New York Yankees è stato Anthony Rizzo, prima base Ben Rice è un prima base, è arrivato dal AAA di Scranton e pronti via riesce a fare prestazioni di un certo livello a partire da questa giocata contro i Boston Red Sox nella Old Rivalry, un lead off home run per aprire le marcature di una partita molto significativa per quanto riguarda Ben Rice che è uno dei pochissimi rookie della storia dei New York Yankees e non solo a effettuare sei fuoricampo nelle prime partite della carriera in maglia Bronx Bomber, questo è il primo giro delle basi per quanto riguarda il rookie con la maglia numero 93 e quello che conta però è che non sarà il primo fuoricampo semplicemente a mettere gli Yankees sul tabellone, questo è il replay del giro di Mazza, vediamo invece la gioia e il festeggiamento per quanto riguarda appunto Ben Rice, un Ben Rice che però appunto avrà una grande partita, una grande stagione che sta per iniziare e continua con quest'altro giro di Mazza che finisce oltre la recensione dello Yankees Stadium per in questo caso allungare il punteggio sull'11 a 4, fuoricampo da 3 punti per quanto riguarda Ben Rice il secondo della partita evidentemente contro i Boston Redskins, una partita che sarà veramente vanto magica per quanto riguarda Ben Rice il risultato è ovviamente non in discussione, 10 a 4 in questo momento nella parte bassa del quinto per gli Yankees ma appunto il punteggio verrà assolutamente arrotondato perché appunto abbiamo visto già come Ben Rice abbia avuto un grande impatto con 9 RBI dal 18 giugno, giorno di debutto appunto del rookie con la casacca numero 93, eppure c'è gloria ancora per un altro giro di Mazza che finirà oltre la recensione dello Yankees Stadium, 14 a 4, 3 fuoricampo nella stessa partita per Ben Rice uno dei primi rookie a effettuare questa particolare statistica, non si vede così spesso che un giocatore di fatto agli esordi faccia il bello e il cattivo tempo, 3 fuoricampo in una partita, 4 in stagione al momento di questo video, in realtà poi arriveranno a 6, sono 12 RBI complessivi di fatto nelle prime partite dall'esordio di Ben Rice che sarà veramente un giocatore che potrà dare una mano importantissima ai New York Yankees assieme a un altro giocatore che però abbiamo già parlato giovedì scorso perché sappiamo che gli Yankees hanno avuto una possibilità di prendere Josh Chisholm una superstar da Bahamas per quanto riguarda gli ex Miami Marlins, è arrivato appunto agli Yankees una squadra contender per il titolo e pronti via il Bahamans, Josh Chisholm in una partita di alto livello contro i Philadelphia Phillies decide di sbattere fuori questa palla oltre le recensioni del Citizens Bank Park per allungare il punteggio sul 2-0 e questo che vediamo è il primo fuoricampo in maglia New York Yankees per il giocatore di Bahamas che peraltro batte in campo opposto, non così frequente per un mancino prova la presa Austin Hayes, un altro nuovo acquisto che abbiamo visto passare da Baltimore a Philadelphia ma ovviamente non basta, primo fuoricampo in maglia Yankees per il nuovo numero 13 appunto della formazione di New York che qui si replica diciamo in un'altra azione uguale, fuoricampo da due punti va detto però contro Drew Stubbs che non è un lanciatore ma è un ricevitore in una situazione del genere a punteggio compromesso Philadelphia ha messo un giocatore di movimento a fare il lanciatore con un lancio della mia categoria cioè lo slow pitch softball, Chisholm riesce a mettere un altro fuoricampo oltre le recensioni di fatto gli Yankees hanno dominato questa scratch di partite e evidentemente sono riusciti a mettere quelle partite che bastavano per recuperare un iniziale svantaggio contro i Baltimore Orioles ripeto sarà un grandissimo duello appunto tra gli Yankees e gli Orioles da una parte una squadra con grandissimi giocatori, grandissimi campioni ma che spesso è infortunata ma che con la via aerea, col fuoricampo riesce evidentemente a vincere partite e ad accaparrarsi vittorie importanti dall'altra una squadra molto giovane, molto di prospettiva ma concreta già nel presente ovvero i Baltimore Orioles, Baltimore Orioles che hanno acquistato tantissimi giocatori sul mercato l'abbiamo già parlato nel video di giovedì scorso, Zac Eflin su tutti abbiamo visto anche altri scambi con San Antonio Dominguez, Christian Pacet e altri giocatori importanti come per esempio Trevor Rogers, il giocatore ex anche lui, Miami Marlins un'altra operazione fatta in realtà un po' più a microfoni spenti in questo caso rispetto a quando abbiamo parlato l'ultima volta è stato la riacquisizione di Jackson Holiday, Jackson Holiday figlio del grande Matt, uno dei più grandi prospetti dei tempi moderni del baseball, è il numero uno prospetto della nazione evidentemente per tutti i power ranking MLB ha fatto un primo stint al piano di sopra, Jackson Holiday, non è andato benissimo, anzi è stato quasi disastroso è andato in AAA, è tornato e qui celebriamo invece una volta un grande momento per Jackson Holiday perché il primo fuoricampo della carriera del numero 7 dei Baltimore Orioles è un grande slam in casa contro il Toronto Blue Jays, questa parla letteralmente si perde oltre alle strade di Camden Yards al Oriole Park contro i Toronto Blue Jays in uno scontro della stessa divisione Jackson Holiday si presenta così, o meglio si ripresenta così col fuoricampo da 4 punti per l'8-3 di questa partita Holiday è un giocatore che ovviamente ha dovuto fare un percurso di riassegnazione in AAA per migliorare quei difetti che in MLB lo hanno reso veramente un giocatore qualsiasi nonostante un hype incredibile ed evidentemente come nuovo esordio questo è un gran bel milestone per il figlio di Matt, storico giocatore dei St. Louis Cardinals passiamo alla prossima divisione, parliamo dell'American League Central un pochino più compatta magari rispetto all'ultima volta di cui abbiamo parlato ma appunto con una grande certezza i giovani e forti Cleveland Guardians sono ancora una volta la migliore squadra di questa Lega 67 vittorie, 43 sconfitte per la formazione dell'Ohio il 60% di vittorie letteralmente 7 vinte dell'ultime 3, dell'ultime 10 scusate ovviamente con una grande squadra, un grande core di giovani e un Emmanuel Claset che come sempre si dimostra un grandissimo giocatore e uno dei migliori closer nelle partite tirate punto a punto in seconda posizione abbiamo Minnesota Twins con 61 vinte e 48 perse, 56% di vittorie striscia però aperto di vittorie perché nelle ultime 10 sono 6-4 ma 3 consecutive quindi attenzione a Minnesota che sta cercando di ricucire il distacco in una division che probabilmente dovrebbe riservare un posto wildcard siccome la competizione anche per una volta est non è poi così tanto elevata come gli anni passati però appunto è sempre meglio arrivare ai playoff come vincitore di division al netto che il regolamento sfavorisce la peggiore vincitrice delle tre in terza posizione abbiamo i Kansas City Royals che hanno operato molto bene sul mercato con degli acquisti di sistema costruendo di fatto a Salvador Perez la ventesima stagione in carriera praticamente comunque la seconda giovinezza e a Bobby Dewey Jr uno dei migliori prospetti della nazione giocatori concreti già in questo momento una buona squadra con acquisti da Oakland con acquisti comunque con scambi insomma tutto questo per una stagione che non premia evidentemente il momento di Royals ma che li mette lì comunque in posizione da wildcard 62 vinte e 50 perse e sono terzi in questa division che sta regalando molte più sorprese che altro quindi grande onore ai Kansas City Royals un pochino meno alle squadre che arrivano sotto appunto la terza classificata dell'American League Central da una parte i Detroit Tigers in quarta posizione 53 vittorie e 59 sconfitte Detroit va detto ha venduto un sacco di giocatori importanti e appunto ha dato già a sud questa stagione quindi non mi aspetto grandi progressioni da parte dei Tigers mi aspetto più una ottica di rebuild delle prossime stagioni al netto che appunto il materiale c'è ma va appunto ricostruito in alcuni casi riqualificato vedi per esempio Sperson Tockelson che è appunto andato in AAA e non si è più rivisto nulla da dire invece su Chicago White Sox peggior squadra non solo della Lega ma probabilmente anche della storia MLB sono già 86 le sconfitte per la formazione della Southside di Chicago striscia aperta di 19 sconfitte consecutive qualcosa che in tempi moderni francamente non ho mai visto ma neanche la Oakland dell'anno scorso quando evidentemente aveva svenduto tutti e aveva problemi societari qui veramente non c'è più aria molto buona da quella parte di Chicago è inutile stare qui a parlare sarà un miracolo se si arriverà alle 40 vittorie a fine stagione per quanto riguarda invece l'American League West abbiamo tanta roba di cui parlare a cominciare da questa classifica che appunto vede un livellamento di questa divisione ma più che altro verso il basso perché appunto delle tre vincitrici di divisione in questo momento Seattle che è prima è la peggiore è vero che Seattle ha appena comprato Randy Rosarena e si è anche cautelata con il grande veterano Justin Turner in prima base però appunto rimane sempre il discorso che Houston da dietro sta arrivando una divisione però così poco competitiva vorrebbe dire un turno in più di playoff e quindi è importante aumentare il record almeno per scavalcare i Cleveland Guardians al netto che le differenze in questo momento in termini di partite sono tante perché parliamo di otto sfide da vincere per Seattle che comunque è prima nell'American League West con 59 vittorie e 53 sconfitte una percentuale poco sopra il 50% in seconda posizione gli Houston Astros a 57 vittorie e 53 sconfitte semplicemente due vittorie in meno rispetto ai Mariners in terza posizione abbiamo i campioni in carica dei Texas Rangers che stanno sottoperformando ed evidentemente quell'energia, quel core che aveva tanto sorpreso la scorsa stagione sta molto deludendo e quindi potrebbe già esserci un'abdicazione del titolo già prima di ottobre ma appunto vedremo ricordiamo che agosto e settembre sono i mesi dove abbiamo assistito spesso delle rimonte incredibili sono ovviamente già fuori dai giochi invece Los Angeles Angels o Vanaheim con 48 vittorie e 63 sconfitte a 10 partite e mezzo di distacco dalla prima posizione e ovviamente gli Oakland Atleti che comunque non sono così lontani dagli Oakland o meglio dagli Los Angeles Angels o Vanaheim e comunque tutto sommato nelle ultime 10 hanno fatto meglio parliamo di 6 vinte contro le 4 di Los Angeles attenzione perché se Oakland dovesse non arrivare ultima nonostante tutta la situazione e il trasferimento in Corso Sacramento sarebbe veramente una manna dal cielo per una squadra che deve assolutamente rifondare in ottica 2028 dove ricordo ancora una volta si trasferiranno definitivamente a Las Vegas questa divisione l'American League West cos'è che ci dice? semplicemente che probabilmente se l'andare sarà lo stesso da qui fino a inizio ottobre dove inizieranno i playoff soltanto una di queste formazioni andrà ai playoff ed è una cosa molto strana perché di solito la competitività di questa divisione era molto elevata non è vero che spesso avevamo 2 se non 3 squadre su 6 qualificate ai playoff è ovvio che in questo caso parleremo solo della vincita di division che peraltro dovrà fare un turno aggiuntivo della Wild Card Series con una squadra anche più quotata quindi appunto per quello è importante per chiunque vincerà la divisione che sia Texas, Houston o Seattle arrivare a vincere e arrivare bene ai questi playoff che ripeto partiranno in inizio ottobre ma già costruendo le vittorie ad agosto e settembre si arriverà evidentemente alla concreazione di questo obiettivo finita la panoramica sull'American League passiamo alla National League anche qui panoramica da est a ovest con partiamo una grande squadra da analizzare oramai lo diciamo sempre i Philadelphia Phillies sono la miglior squadra per quanto riguarda la National League non più però della Lega perché adesso il record migliore complessivo c'è la Cleveland dell'American League Central 65 vittorie e 45 sconfitte però per quanto riguarda i Philadelphia Phillies che in queste ultime 10 partite hanno avuto una flessione parliamo di 8 sconfitte sconfitte nelle ultime 10 di cui 6 consecutive questo fa il paio con la grande rimonta degli Atlanta Braves e anche dei New York Mets quindi attenzione che attenzione potremmo avere una division della National League East più riaperta che mai in seconda posizione ha 5 partite di stacco è vero ma appunto ricordo Philadelphia si è aperta di 6 sconfitte consecutive ci sono gli Atlanta Braves che sono cautelati sappiamo il grande acquisto di Jorge Soler per coprire l'infortunio di Acuna e anche con dei rientri che dovrebbero arrivare sul monte di lancio comunque 60 vittorie per Atlanta non sono da buttare a fronte però di 50 sconfitte Atlanta ha recuperato nelle ultime 10 partite 4 di distacco 6 vinte nelle ultime 10 è vero che l'ultima l'hanno persa però appunto un passo falso ci sta benché sia arrivato contro Miami stessa situazione circa dei New York Mets con 58 vittorie e 52 sconfitte i Mets da giugno hanno ingranato una marcia che gli ha permesso di fare una rimonta clamorosa e di essere in piena lotta per la wildcard 58 vittorie e 52 sconfitte per la squadra che tifo con lo stesso regno nelle ultime 10 per quanto riguarda gli Atlanta Braves squadra che fino a due mesi fa i Mets non potevano vedere neanche pitturata eppure a questo punto mancano solo due partite di distacco per la seconda posizione in questa division per i Mets che hanno finalmente ingranato e fatto acquisti di sistema senza spendere magari tanto ma per avere appunto un core di giocatori utili alla causa che sarebbe in questo caso la wildcard della National League che vedremo poi successivamente sarà un autentico macello in quarta posizione abbiamo i Washington Nation 50 vittorie e 61 sconfitte sono praticamente già fuori dai giochi da un po' però comunque stagione più che dignitosa per quanto riguarda la squadra della capitale e invece appunto in ultima posizione abbiamo i Miami Marlins 41 vittorie 70 sconfitte stagione andata già a sud da molto prima della 3 Deadline viste le grandi cessioni di maggio e anche la 3 Deadline ha segnato questa cosa appunto Miami una delle squadre insieme appunto a Toronto e altre citate che hanno fatto veramente pietà come i Chicago White Sox che potevano e dovevano assolutamente vendere per quanto riguarda la National League Central in prima posizione abbiamo i Milwaukee Brewers 62 vittorie 48 sconfitte 56% di vittorie ma una sorta di periodo di ristagno in un'American League Central che è più compatta che mai è la divisione senza dubbio più interessante di tutta la National League in modo di vedere perché appunto ci sono neanche 9 partite di distacco tra la prima e l'ultima classificata i Milwaukee Brewers sono peraltro in una delle poche strisce non sotto al 50% 5 vittorie nelle ultime 10 ma appunto l'ultima l'ha persa a differenza invece di chi sta dietro St. Louis è seconda 57 vittorie 54 sconfitte vittoria nell'ultima sfida contro i Chicago Cubs vittoria che peraltro che vale doppio perché è nella stessa divisione e quindi una vittoria in più dei St. Louis Cardinals ricaccia indietro ovviamente la formazione dei Chicago dalla parte nord che però appunto non ha comprato così tanto a differenza di St. Louis che si è rinforzata in modo molto importante vedi per esempio Eric Feddy dai Chicago White Sox in terza posizione abbiamo i Pittsburgh Pirates squadra giovane che comunque ha un buon core ha già una superstar affermata di questo gioco ed è Paul Skins che è stato il titolare partente dell'All-Star Game ma Skins ricordo anche una volta è un rookie arrivato quest'anno dal draft dell'anno scorso ed è veramente il nuovo fenomeno generazionale sul monte di lancio 56 vittorie e 54 sconfitte per i Pirates che sono comunque in piena lotta anche loro per quanto riguarda la Wild Card anche loro hanno un record impattato al 50% delle ultime 10 5 vittorie e una vittoria aperta in attesa della sfida di stasera contro l'Orizona e i Cincinnati Reds paradossalmente che invece sono sotto al 50% in quarta posizione 53 vittorie e 57 sconfitte sono la squadra che maggiormente è in salute in questo momento per quanto riguarda questa divisione 6 vittorie nelle ultime 10 anche loro una vittoria nell'ultima sfida e una sfida contro i San Francisco Giants squadra che anche loro dovranno evidentemente vincere per la Wild Card detto che San Francisco stranamente ha più venduto che acquistato ultimi sono invece i Chicago Cubs che anche loro sono appena sotto il 50% di vittorie con 54 vittorie e 59 sconfitte ma un'altra formazione che appena ingrana un attimo la marcia giusta potrebbe fare una possibile rimonta certo rimontare 4 partite pulite su St. Louis non è così semplice e anche dobbiamo tenere conto delle squadre in Wild Card delle altre divisioni che sono veramente tante quindi vedremo se questo piccolo passo falso in questo periodo non abbia già compromesso la zona dei Cubs o meno chiudiamo la nostra panoramica e parliamo dell'American League West un'American League West che vede in prima posizione i Los Angeles Dodgers che sono in un attimo in un momento di flessione con 4 vittorie nelle ultime 10 ma un record comunque nettamente da prima della classe in questa divisione 64 vittorie e 47 sconfitte in seconda posizione abbiamo i San Diego Padres 60 vittorie 52 sconfitte per una formazione che comunque è rimontato molto bene ha superato i più quotati Diamondbacks e San Francisco Giants e finalmente sta trovando un core di squadra per un set di figurine come abbiamo sempre chiamato negli anni passati l'anno scorso i San Diego Padres erano una cozzaglia di campioni di grandissimi giocatori ma che non hanno quadrato in questo caso invece hanno trovato probabilmente quello che serve e San Diego senza se senza ma è la miglior squadra in questo momento dal National League 8 vittorie nelle ultime 10 l'ultima ha interrotto una striscia di sconfitte ovviamente che era in corso ma comunque attenzione a quelli di San Diego Padres che anche con una grande prestazione di un lanciatore di cui parleremo tra poco possono evidentemente arrivare a puntare sicuramente a una wildcard se continuano di questo andare i vice campioni in carica invece sono terzi con 59 vittorie 52 sconfitte i D-backs anche loro però stanno provando a recuperare con lo stesso regolo nelle ultime 10 dei Padres 8 vittorie nelle ultime 10 ma l'ultima l'hanno purtroppo persa ma comunque sono 59 vittorie 52 sconfitte per questa squadra giovane forte che potrebbe attentare una rimonta chi lo sa appunto però il problema è sempre lo stesso per quanto riguarda la National League la lotta della wildcard è un macello e di conseguenza ogni vittoria anche con le squadre dirette di wildcard può contare 2 se non 3 volte tanto in quarta posizione i San Francisco Giants appena sotto il 50% hanno venduto Orge Soler ai ovviamente Atlanta Braves ma comunque nonostante questo hanno un record positivo 7 vittorie nelle ultime 10 e il record è appena sotto il 50% attenzione che anche San Francisco non è mai da dare per morta al netto che rispetto a San Diego Arizona e tutte le squadre in lotta per la wildcard i Mets i Braves eccetera sono un gradino sotto nel modo di vedere però attenzione anche ai San Francisco Giants di cui avremo un giocatore di cui parleremo al termine di questa divisione della classifica perché appunto la concludiamo con i Colorado Rockies che sono ultimi di fatto con lo stesso record di Miami 41 vittorie e 71 sconfitte per una squadra che comunque doveva essere lì e sta lì abbiamo avuto abbiamo avuto due grandi milestone in questa divisione ed è l'argomento in cui concludiamo di fatto questa parte di video con appunto una possibilità importante abbiamo avuto abbiamo avuto però due milestone molto importanti per quanto riguarda questa divisione perché due lanciatori sono di fatto eretti a grandi protagonisti dei nostri approfondimenti della MLB Review il primo è Dylan Seas un lanciatore che qualche anno fa era arrivato vicino a un grande milestone per il lanciatore doveva lanciare una no hit arriva qui nella parte bassa del nono in una partita in trasferta contro i Washington Nationals e succede questo perché arriva il lancio da parte di Dylan Seas in battuta c'è CJ Abrams che va a battere questa volata però presa al volo dall'esterno destro dei San Diego Padres è ball game e di conseguenza Dylan Seas realizza la prima no hit della sua carriera è la seconda in tutta la storia dei San Diego Padres il fun fact è che la prima no hit della storia dei Padres è arrivata nel 2021 con Joe Masgrove uomo di San Diego cresciuto a San Diego la storia divertente e interessante è che Dylan Seas era arrivato due anni fa a lanciare una quasi no hit contro Minnesota era arrivato già a un out dal chiudere l'incontro con questo grande traguardo non ce l'ha fatta due anni dopo si ripresenta la stessa situazione e ce la fa quindi altro grande milestone per i San Diego Padres e ottimo traguardo per Dylan Seas e siccome appunto in questo mese passato abbiamo avuto già una no hit nella National League West Blake Snell ha pensato bene di iscriversi anche lui alla festa con di fatto una partita finita con lo stesso punteggio perché se San Diego ha vinto 3-0 in no hit contro i Washington Nationals San Diego vince in no hit 3-0 contro i Senni e il protagonista è Blake Snell il miglior giocatore della storia se si giocasse soltanto una parte di stagione cioè la seconda perché Blake Snell è tornato quello dell'anno scorso in modalità Cy Young e qui arriva la volata decisiva che chiude l'incontro al Great American Ballpark di Cincinnati Ohio Blake Snell ha faticato una provata di stagione ma quando è la seconda ha iniziato con questa no hit attenzione perché se Snell arriva a questi livelli in questa seconda parte di stagione regolare i Giants sono da corsa ma questo è un grandissimo maestro appunto per un giocatore che non aveva peraltro mai completato una partita in tutta la carriera l'ha fatto per la prima volta pochi giorni fa esattamente due parliamo del 2 di agosto 2024 e l'ha fatta con una no hit contro i sensi nati Rezzo squadra che è in lotta anche lei per la Wildcard ma in un'altra divisione National League Central quindi grande prestazione per quanto riguarda Blake Snell appunto abbiamo parlato di San Diego e San Francisco che sono anche loro in lotta con la Wildcard ma appunto San Francisco ne ha vinte sette delle ultime dieci sta rimontando tantissimo dopo una stagione per il momento di più bassi che alti San Diego invece sta solidificando quel core di campioni che ha preso negli anni passati in tutto questo per una classifica della Wildcard che dobbiamo andare a vedere perché da qui in poi il video si concluderà con questa ulteriore revisione questa classifica sarà importantissima da vedere perché già da adesso dobbiamo avere contezza di come sono strutturate le varie lotte soprattutto per la Wildcard che garantiscono una qualificazione ovviamente ai playoff della MLB playoff che vedrebbero in questo momento i Cleveland Guardians si Baltimore Warriors ex-sequo con gli Yankees e i Seattle Mariners passare come vincitori di divisione mentre sarebbero qualificate ovviamente anche le squadre che vengono selezionate sopra la riga di questa classifica in questo caso o Baltimore New York a seconda del record Minnesota e Kansas City è ovvio che qui la classifica della Major League specifica esattamente due squadre nella stessa posizione avendo appunto due squadre ex-sequo nell'American League East Baltimore e New York al momento sono andate sia come vincitori di divisione che come Wildcard è ovvio che la miglior vincita di divisione passerebbe direttamente al secondo turno e chi non vince la divisione a est dell'American League va a giocarsi la Wildcard mentre appunto Cleveland passerebbe già con il bye la peggiore delle vincite di divisione sarebbe Seattle che però affronterebbe il Wildcard Series come primo turno e in questo momento sarebbe una sfida contro i Kansas City Royals che sono secondi in divisione ma hanno un record addirittura migliore dei Seattle Mariners segno che appunto la divisione della Central dell'American League è molto più competitiva di quella che succede a ovest dell'American League sotto invece abbiamo una gran bella lotta che per il momento coinvolgerebbe sicuramente fino a Tampa Bay che ha 5 paesi di distacco dalla Wildcard i campioni in carica sono quarti della crescita della Wildcard stanno sottopperformando devono fare le dimostrazioni regolari veramente con la sesta ingranata per avere qualche speranza di playoff altrimenti avremo già appunto la destituzione dei campioni in carica che l'anno scorso vinsero 4-2 contro gli Arizona Diamondbacks nella finale della World Series in National League invece ancora più un macello anche se qui i valori per quanto riguarda le vincitori di Division sono ben definite se finissero ovviamente in questo momento la stagione regolare avrebbero qualificazione garantita al secondo turno Philadelphia e Los Angeles Dodgers con appunto aver conquistato la propria divisione Est per quanto riguarda i Phillies Ovest per quanto riguarda i Los Angeles Dodgers Milwaukee passerebbe come terza amicita di Division ma non avrebbe il bye e andrebbe a giocare il primo turno contro gli Arizona Diamondbacks che appunto avrebbero ancora chance di arrivare fino in fondo alle World Series mentre avremmo un grande scontro al primo turno tra Atlanta Braves e San Diego Padres ma attenzione però perché se in American League le squadre nell'ordine delle cinque partite erano soltanto tre qui arriviamo addirittura a sei perché fino ai sensi nati Reds sono tutti in lotte evidentemente per i playoff ci metto anche i Chicago Cubs che sono a sei partite per una dei Cubs però appunto il numero di squadre davanti perché i Cubs sono di fatto settimi nella classifica della squadra wildcard esclusa i primi sono i mei di New York Mets ha solo mezza partita dietro abbiamo St. Louis Pittsburgh dalla Central San Francisco dalla West Sensinati ancora dalla Central e i Chicago Cubs ancora dalla Central cioè la Central avrebbe una possibilità immensa di qualificare tantissime squadre certo più se dentro è peggio è ovviamente le uniche che escludiamo sono Washington Miami e Colorado tutte le altre sono assolutamente in lotta per questi playoff quindi in questo caso attenzione attenzione alla National League perché può regalare tanto spettacolo da qui a inizio ottobre giorno in cui inizieranno i playoff 2024 questa dunque è il recap per quanto riguarda il mese di luglio e le prime partite di agosto per la stagione regolare della MLB il mese prossimo ci sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo tipo di analisi della stagione regolare dopodiché entreremo a ottobre con un video a settimana dedicato ai playoff di questo meraviglioso sport che si sta avvicinando sempre al momento più interessante e più bello di sempre il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video